Sbuca e bagua quando tutto sembrava finito ed il Biceglie porta via da Catania un punto pesante quanto inaspettato. L'1-1 del Massimino rappresenta per la squadra di Pokesci la ripartenza dopo le due sconfitte consecutive contro Viterbese e Ternana. Per sfidare gli etnei il tecnico nero-azzurro stellato si affida alla coppia Montero-Gatto come riferimento offensivo del 3-5-2. Schieramento a specchio per Cristiano Lucarelli all'esordio sulla panchina del Catania. Inizio, gara equilibrato, Catania pericoloso con un bolide dalla distanza di imbende che si spegne di pochissimo a lato. La risposta del Biceglie arriva sugli sviluppi di un piazzato calciato da Zibbert sulla testa di Gatto, palla sul fondo. Alla mezz'ora cross di Mazzarani, testa di Rizzo e sfera che finisce a lato. Sul finale di tempo gli etnei alzano il ritmo e vanno ad un passo dall'1-0 con Mazzarani il cui tiro viene respinto da Casadei con l'aiuto della traversa. Il Biceglie prova a rispondere con Rizzo ma ad un giro di lancette dall'intervallo capitola. Corner di Lodi da destra, testa di imbende, nulla da fare per Casadei. Si va a riposo con il Catania in vantaggio 1-0. Trovato il vantaggio in chiusura di prima frazione, gli etnei approcciano bene la ripresa sfiorando il raddoppio poco dopo l'ora di gioco con Calapai che ben lanciato da Lodi entra in aria ma non inquadra la porta. Il Biceglie non sembra in grado di reagire al settantasettesimo rischia ancora quando di piazza. Serve Curiale con il tacco. Conclusione poco precisa. Nel finale il Biceglie prova a giocarsi il tutto per tutto. All'ottantasettesimo cross da destra di Abonchelet, conclusione di Ferrante, sfera di pochissimo a lato. E il preludio al clamoroso pareggio che arriva allo scoccare del novantesimo. A siglarlo è Giulio Ebagua che capitalizza di testa un perfetto cross da tre quarti e sigla l'1-1. Il pari, subito in extremis, abbatte il Catania che non ha la forza di provare a ripassare in vantaggio. Finisce in parità e per il Biceglie è un punto d'oro.